Grazie! Allora grazie, grazie. Questi sono due grandi assaggio per sentire che le mani volano. Allora adesso partiamo invece con il nostro album. Si chiama Elephant Memory. Cioè nella natura l'animale che ha più memoria si dice sia l'elefante. Noi siamo, come ha detto Reno, abbastanza giovani d'età per avere una memoria lontana. Quindi faremo una carellata di brani che ci sono piaciuti quando avevamo 15 anni. Allora, ora ne abbiamo 15 ma abbiamo più esperienza. Ecco la differenza. Quindi cominceremo con una serie di brani di eroi. Gli eroi sono gli U, Erony Stone, Beatle, Silienimo, tutta questa gente qui. Vedo che già tutti dicono bella, belli, che bella. Ok. Il primo brano si chiama My Generation. E allora lo sono gli U. Il primo brano si chiama My Generation. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti